Franco, complimenti, un ottimo secondo posto qui alla Coppa Totori. Sì, sono contento, felice perché ho fatto una bella gara. Arrivare secondo è un grande onore per me con tanti fior di piloti fortissimi, quindi siamo contenti. Mi sono trovato bene, è un bel percorso, lo conosco oramai bene, non dico al 100% ma lo conosco bene, è un bel percorso. Tu hai una grande esperienza, cosa ha in più di eccellenza alla Coppa Polino-Totori rispetto alle altre gare? È una gara che è una parte lenta, tecnica, poi è veloce, di cuore e quindi questa è la particolarità, c'è tutto in 5 km. Ora come proseguirà la tua stagione? Domenica sono alla Trento Bondone, poi il Riede, tutto il campionato.